Non sono soddisfatto perché da troppi anni abbiamo troppi cantieri concentrati in pochissimi chilometri ma soprattutto non ci sono gli operai che lavorano, quindi che i cantieri servono per la messa a norma, la messa in sicurezza dell'autostrada benvengano, ma questi cantieri poi devono essere ottimizzati nei tempi perché producono un danno all'economia, all'immagine, creano tanti disagi ai cittadini, aumentano i rischi pertanto non sono stato soddisfatto della risposta perché lui già si era interessato a febbraio Salvini quando ci fu quell'incidente a Grotta Mare dove morì quel paraolimpico con i propri figli quindi lui fece un tavolo coinvolgendo i due presidenti di regione, Marche e Abruzzo, appunto per porre fine a questa situazione. Sono passati otto mesi, nulla di fatto, i cantieri continuano a permanere senza persone che ci lavorano sopra ai viadotti o dentro le gallerie e pertanto questa interrogazione ha voluto smuovere le coscienze e soprattutto mettere in evidenza tutto quello che sta accadendo. Poi ho chiesto anche un tavolo istituzionale guidato dal prefetto Stelo. Sì, appunto io penso che la politica non debba strumentalizzare questo problema e quindi ho chiesto al prefetto di Teramo come prefetto di competenza perché molti cantieri sono concentrati tra Pineto e Pescara Nord, quindi nel territorio della provincia di Teramo ho chiesto al prefetto come persona terza di formare un tavolo dove tutti i stakeholder a partire dall'Aspi ai membri, i rappresentanti del Ministero dei Trasporti e quindi anche del Governo le associazioni in modo che tutti quanti insieme possiamo trovare le migliori soluzioni e soprattutto monitorare settimanalmente i lavori per fare in modo che quei due anni che Salvini ha detto possano essere ridotti magari a due mesi.